Tutto incominciò quando suo marito si rifiutò di comperarle quella stola di visone per la quale andava matta. Prima di allora la canadese Sylvie Morely era la moglie ideale, una mogliettina buona, affettuosa, tutta latte e miele. L'avversaria della Morely è una francesina, Jeannie Fournabille. Sembra che si alleni con la suocera poiché il marito ha preferito arruolarsi nella legione straniera. Si lotta senza esclusione di colpi e il nuovo sport è consigliabile a chi vuol mantenere la linea e a chi non vuol mantenere buoni rapporti con i parenti o con i vicini di casa. Qualcuno ride tra il pubblico, ride probabilmente di gioia pensando che non è lui il marito né di Sylvie né di Jenny. Centinaia di persone seguono con grande interesse questi incontri di catch femminile. È però allo studio una nuova legge per vietare l'ingresso nelle palestre agli scapoli. Ciò per evitare che domani, dopo la luna di miele, il neosposo sussurri tenerarmente alla sposina, cara, ti ha detto niente il maestro di catch. Grazie a tutti.